ciao ragazzi eccoci in un nuovissimo video ho deciso di portare nuove tipologie di video magari non c'entrano col tema in generale che poi in realtà alla fine c'entrano perché il tema in generale portare cose che mi interessano a me fondamentalmente e quindi ho deciso appunto di portare a volte acquisti che faccio da primark perché primark lo adoro vendono cose molto pucciose che mi piacciono legate comunque anche un po al mondo nerd comunque disney e anime eccetera harry potter quindi ho deciso di portarvi ogni volta che faccio degli acquisti da primark appunto questa tipologia di video per chi non fosse interessato cioè chi magari può interessare le carte pokemon e guarderà i video pokemon chi interessa e manga guarda e manga chi interessa primark guarda primark e così via insomma ho deciso che comunque sia non è che voglio tenere un canale esclusivamente prettamente per una determinata cosa ma ripeto io lo faccio per puro divertimento e per passare il tempo e quindi porto le cose che mi interessano a chi non interessa niente guarda guarda un altro video insomma cominciamo subito questo è il gran bel pacchettone lo mettiamo qua giù cominciamo primo acquisto vi dico che ci sono i saldi hanno già messo dei saldi non su tutto però insomma su qualche cosina abbiamo questa bellissima maglietta con i coniglietti di bambi stay home in sarebbe con il pigiama che giorno kind of day in realtà non so che cosa voglia dire kind of day magari magari uno slang non lo so iniziamo subito la figuraccia non so una cosa di inglese ma in realtà in inglese lo sarei lo saprei anche quindi buono so che cosa voglia dire kind of day comunque questa qua molto bellina guardato ma è carina taglia ho preso la l costava ora l'ho pagata 8 euro costava 4 euro 8 costava 8 euro l'ho pagata 4 euro allora è abbastanza grande io mi sono fatto un filmino quando l'ho presa in realtà sarebbe il sopra di un pigiama io non sono normale e ho detto prendo una taglia un pochino più larghetta così almeno poi d'estate quando vado al mare con il pantaloncino corto e questa qui sopra dai colori anche abbastanza estivi così ci sta da 10 però ora non lo so con quello che c'è scritto qua se proprio vabbè vediamo al massimo la terrò la terrò per per casa poi adoro il pigiama di barri bellissimo guardate la fantasia è questa ho già un pigiama del genere mi sono trovata molto bene perché quelli troppo pesanti in pile mi fanno caldo e e quindi mi servono mezzo e mezzo mi serve insomma questi sono bellini tengono calduccio ma non ti fanno sudare e col cuore poi questo è il pantalone appunto con rosa con la scritta barbie c'era bellissimo anche un pantalone della tuta di barbie rosa con scritto barbie che in offerta che costava 5 euro ma c'erano soltanto taglie enormi e non mi stavano insomma erano troppo grandi e niente questo non era in saldo l'ho pagato 13 euro 13 euro che poi fra l'altro la taglia ragazzi da primark è una taglia un po più grande perché tipo la m rispecchia la 44 46 in italia io per esempio sono alto 1 metro 80 e quindi per me ci vuole tipo la m in genere per ragazze insomma donne un pochino più bassine perché so che io sono abbastanza alta oddio c'è che anche più alto di me nel mondo del basket però insomma una ragazza meglio una donna media si mettono la loro taglia ls diciamo ok poi andiamo avanti continuiamo con i pigiami ho preso questo pigiama simile al a quella appunto di barbie di dumbo qui ci sono il pantalone che casino insomma il pantalone è in questo modo con questa fantasia con tutti i piccoli dumbo aia e qui abbiamo il polsino ai in fondo alle gambe alle caviglie che io voglio tutto col polsino e poi abbiamo la maglia che è fatta in questo modo rigiriamo ce la puoi fare fabi ecco la maglia è così sempre la solita fantasia abbiamo qui intorno al collo questa cosa la il polsino alle braccia sempre taglia m e il prezzo anche questa non era in offerta 14 euro però ve li consiglio tantissimo questi pigiami perché tengono caldo non troppo si sta comodi calzano bene io ve li consiglio tantissimo e poi sono veramente adorabili e questo poi andiamo avanti ho preso allora io sono la ragazza dei pigiami ho preso quest'altro pigiami che praticamente è fatto così abbiamo questo estivo questo era in saldo abbiamo il pantaloncino in questo modo eccolo qua questo è il pantaloncino abbiamo il fiocchetto davanti ma l'elastico è vero e perché a volte ci sono dei modelli che c'è il finto elastico in realtà non è elastico il pantaloncino corto fatto così this girl needs sleep questa ragazza ha bisogno di dormire con tutte le topoline 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 e il sopra invece è in questo modo fatto in questo modo è praticamente quando me l'hanno ripiegato non potevano usarlo bene io ovviamente tengo il cellulare in mano perché sono una sdatta che non che non non sa fare le cose per bene su youtube perché appunto le faccio per letto quindi non è che mi vada a ingegnare sul prendere chissà che cosa un cavalletto che in realtà potrei anche farlo insomma allora e questa è invece la magliettina è una magliettina che è corta come potete vedere è corta con le maniche a tre quarti sta in larghezza è tipo oversize genere tipo oversize con le maniche appunto a tre quarti qui con questa scritta non disturbare di queste non c'era ah no di questa qui l'avevo presa la taglia si sempre taglia M pensavo di aver preso la L perché la M non c'era pagato 5 euro costava 11 55% di sconto ovviamente questo è un pigiamino da casa insomma non sono tanto convinta del fatto il pigiama da casa con la maglietta che sta corta perché non mi piace con un po' di pancia di fuori non sto comoda se devo stare in pigiama devo stare comoda però insomma costava 5 euro è carino poi me la gioco io per come metterlo come non metterlo insomma comunque tanta roba pantaloncino e maglietta poi andiamo avanti ho recuperato ho recuperato ora siccome fossero fumetti adoro 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 questa bellissima pushette natalizia di mini in saldo costava 8 euro l'ho pagata 4 euro è bellissima fra l'altro dentro c'è un'altra pushette questa è un'altra pushette al suo interno e poi è grandissima guardate quanto è capiente più lo spazio qua insomma molto carina allora io sono la donna dei pigiami e delle pushette io penso di averne 150 miliardi alcuni anche da rinnovare e ogni volta vado in viaggio vabbè lasciamo perdere quest'anno non è stato molto un anno molto favorevole per i viaggi fra l'altro dovevo andare in Indonesia lasciamo stare e e quindi mi porto sempre le pushettine nuove dietro sono fissata e quindi questa e ho preso anche la compagna che è questa qua questa con questa forma a bauletto in questo modo molto molto carina anche questa in offerta costava 6 euro l'ho pagata 3 euro ma come fai a lasciarle lì quando mi sono carine che poi io non è che sia fissata con mini ok io sono fissata semplicemente le cose pucciose qualsiasi cosa sia abbastanza dolce e pucciosa io adoro e niente queste e dopodiché ho preso giusto per provare questa palette glitter con tutti con tutte le dei colori un pochino diciamo autunnali l'ho pagata 5 euro volevo vedere insomma se se ne valeva la pena insomma provare vediamo un attimino perché tempo fa presi una palette da primark però costava insomma 10 euro di aladin no vabbè ragazzi meravigliosa e dei colori bellissimi e stavano benissimo quindi buh se ci fosse stato scritto non lo so la bella e la bestia aladin hello kitty o che so io l'avrei preferita perché non sono normale però insomma anche se ho una palette normalissima ho detto proviamo 5 euro ero ero predisposta a spendere ieri e niente questi sono stati i miei acquisti da primark ragazzi fatemi sapere se ci è andata anche voi da primark se vi piace non vi piace e niente vi saluto mi raccomando iscrivetevi al canale mettete vi piace e niente buon anno nuovo ciao a tutti